Forse stanno lavorando a un esercito di super scimmie? Cazzo di merda! Forse una cospirazione tipo X-Files? Tipo Roswell? Lavorare in segreto con un gruppo di stronzi fumatori incalliti per far credere a noi uomini che loro sono la specie superiore? Devi essere più veloce del cane di Wolf Liningham per correre più di un gorilla o rischi di essere catturato o peggio, mangiato vivo! Non avrei dovuto nemmeno essere qui oggi! E così queste cazzo di scimmie cominceranno a vestire come noi e ricostruiranno il mondo a loro immagine! E solo i pochi che sopravviveranno alle donate scimmie ricorderanno che era l'uomo una volta a regnare sulla terra! Voi folli! Voi dannati! Andate all'inferno!